La vicenda di lavoro del Teatro Romano torna di attualità con l'associazione Terra Monostra che a seguito di notizie relative alla riapertura del cantiere proprio del Teatro Romano vuole vederci chiaro su diversi punti dall'abbattimento di Casa Salvoni e Casa Damoli ai reperti archeologici che pare notizia di questi giorni il sindaco voglia spostare. Noi l'anno scorso abbiamo impedito materialmente che i reperti, parliamo di reperti, non di pietre i reperti dei quattro fornici, i reperti storici del nostro teatro fossero portati via anche se avevamo avuto l'assicurazione prima che non venivano invece la mattina è passata una nostra iscritta, ci ha telefonato e siamo corsi per bloccare questo ship. A questo punto chiederete un incontro col sindaco, un tavolo tecnico, con la sovrintendenza si è parlato anche di Ministero dei beni culturali. Noi ci siamo messi sempre a disposizione del sindaco però il sindaco evidentemente non ha bisogno della nostra collaborazione perché a parola aveva detto che ci voleva coinvolgere ma tutto ciò non è avvenuto. Noi martedì scorso una delegazione è andata dal sovrintendente regionale Magani a illustrare la situazione, siamo in contatto con l'onorevole Zambarotti che sta preparando un'altra interrogazione al Ministro Ornaghi. L'associazione porta avanti da oltre 14 anni una volontà e un impegno di riqualificazione dell'area storica ma punta il dito contro la politica, rea di avere fatto solo chiacchiere in questi anni e di avere speso soldi inutilmente. 5 milioni di euro per un progetto di abbattimento di Casa Damoni e Casa Salvoni che ancora non sono state abbattute e poi quei reperti che non sono stati ancora catalogati, reperti che vanno a ricomporre i quattro fornici abbattuti ora posizionati all'interno del cantiere del Teatro Romano, reperti che non andrebbero a intracciare i lavori ma che secondo il Presidente Chiarini darebbero fastidio a qualcuno, magari ai commercianti del posto. Togliere i reperti come succede qui da noi, si mettono in un capannone, si lasciano là, cambia amministrazione e chi viene dopo magari nemmeno sa che ci sono quei reperti e questo progetto è ambizioso per noi, per la nostra città, per il futuro dei nostri figli perché se non creiamo le condizioni perché la nostra città faccia un salto di qualità non andiamo da nessuna parte.